Io vi ringrazio tutti, io sono venuto più per ascoltare e sono molto contento di questo invito, vi ringrazio, ho ascoltato molte cose interessanti e sarò breve perché la maggior parte degli argomenti della lista Zipra sono già stati illustrati negli interventi di Gianni Cuperlo, di Stefano Fassina e anche di Carlin Petrini, quindi io mi trovo spiazzato da questo. Io recentemente è stato citato anche da Vendola, c'è una frase che ci siamo scambiati con Moni Ovadia mesi fa quando abbiamo deciso di candidarci, c'era una frase di Bertolt Breck che spiega anche lo stato d'animo di molti che ci hanno votato, che ci siamo seduti dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Ora io non ho mai fatto mistero durante la campagna elettorale chiedendo anche voti di altre, di forze politiche come Selleri, Fondazione, di essere sempre stato un elettore del PD, anche un convinto elettore del PD, di aver votato il PD fino all'ultima elezione politica, dove il mio voto poi se n'è andato per altri lidi rispetto a quello che io avevo dato, che era quello per far vincere la coalizione dei beni comuni. Credo anche di essere stato il primo giornalista di un quotidiano nazionale, aver intervistato Renzi, aver parlato del fenomeno Renzi, ho raccontato per i lettori di Repubblica la Leopold e come ricordava prima Gad Lerner invocavo un ricambio generazionale nel PD, cosa che qualcuno ancora mi rimprovera, ma ne ero profondamente convinto. E trovo anche che sia stato un fatto per molti versi positivo, perché se il PD fosse andato alle elezioni europee con il vecchio gruppo dirigente questo risultato non sarebbe stato raggiunto, io lo considero un risultato positivo e probabilmente avremmo avuto un risultato politico inquietante, con una larga vittoria di movimenti anti-europeisti. Però mi trovo in questa situazione paradossale, vabbè che è da tanti anni che tengo una rubrica che si chiama Contromano, ma insomma sto scendendo dal carro del vincitore e vedo avanzare verso di me una folla molto composita di gente che procede nel senso inverso. E la folla è molto composita. Ci sono ex allievi di Bertinotti come Gennaro Migliore, ci sono ex pupilli di Montezemolo, ci sono associazioni leghiste di industriali del Veneto che io ho frequentato come giornalista tanti anni, ci sono ex operaisti, ci sono liberisti e antiliberisti, ci sono ex cortigiani di Berlusconi e militanti del giornalismo più anti-berlusconiano e giornali anti-berlusconiani. È tutto un po' strano, qualcuno di questi evidentemente non ha le idee chiare o forse non gliel'hanno chiarite, qualcuno si sbaglia, qualcuno ha ragione. Da che parte corrono intanto? Corrono verso un programma, non lo so, io non l'ho ancora capito bene qual è il programma, corrono verso un partito, io non credo che ci sia più il PD che c'era prima, quindi non è neanche quello, corrono verso un leader, corrono verso Renzi e verso il renzismo. Benissimo, per fare che cosa? Perché guardate io da anni sostengo, anche prima che andasse di moda, che la politica ormai è diventata narrazione, è diventato liberismo, lo sostengo perché faccio il giornalista e racconto le cose che accadono, non quelle che mi piacerebbe che accadessero. Poi adesso la parola narrazione non si può neanche più sentire, ma insomma è vero, ci sono dei processi di linguaggio politico che sono in atto da tempo, ma dietro questo, poi era mia intenzione anche criticare questa tendenza, evidentemente non è stata capita, dietro questo ci sono le cose, la politica è fatta di cose e di scelte. Io ho scelto di appartenere a un gruppo, che è la sinistra europea, che è un gruppo molto composito, fatto di tendenze molto diverse, che si è molto rinnovato in questa elezione, grazie alla vittoria, soprattutto nell'area dei cosiddetti, chiamati simpaticamente PIX dai tedeschi, Portogallo, Italia, Spagna, Irlanda, Grecia, l'avanzata di movimenti di sinistra cosiddetta radicale, che hanno cambiato la natura di quel gruppo, che era una natura diciamo un po' reducista. E quindi ci sono varie anime anche nel gruppo della sinistra europea, non è che ci siano poi molti punti in comune tra i movimentisti di Podemos e il PCP, Partito Comunista Portoghese, che ci sottopone documenti di 20 pagine, anche se bisogna decidere la pausa mensa. Però c'è dietro che cosa? Un leader? No, c'è dietro un programma. Noi abbiamo cercato per tutta la campagna elettorale di parlare di un programma, di un programma il cui principale ispiratore è Alexis Sipers, che è un programma coerentemente contro l'austerità. Dei punti di questo programma io non ho ancora capito, sinceramente ve lo chiedo, qual è la posizione del PD di Renzi. Sul fiscal compact, sui patti di stabilità e sul pareggio di bilancio inserito alla Costituzione quando l'Europa non ce lo chiedeva, io non so qual è la posizione del PD di Renzi, vorrei conoscerla. E non è una questione che possa essere risolta con trucchi o retoriche televisive, non si può dire noi siamo per attenuare. Io assisto a una trasformulazione interessante del giornalismo italiano che sta scoprendo cose che nessun altro giornalismo europeo scopre. Per esempio nei giornali stamattina su tutti i giornali europei non c'era traccia, evidentemente sono meno bravi, del successo diplomatico ottenuto dal PD presso la Merkel e le politiche di austerità che invece secondo i giornali italiani Renzi ha ottenuto. Perché in un documento è stata inserita mi pare una formula come migliore uso della flessibilità. Io non so, non ho studiato bene economia come fassina, però secondo me il migliore uso della flessibilità non significa assolutamente nulla e quindi non capisco che successo diplomatico sia stato ottenuto. Mi pare di capire che semplicemente, io sono d'accordo sul fatto che i programmi vengano prima degli uomini ma quello che ho visto a Bruxelles è il circolare degli organigrammi in cui si discute chi fa il capo, chi fa il commissario, chi fa il presidente, di questo si sta discutendo con una furibonda applicazione di un manuale Cencelli su scala continentale. Io di contenuti non sento parlare. C'è in atto, ho sentito parlare Carlin Petrini, cose molto interessanti e affascinanti come sempre, quelle che dice Carlin, c'è in atto la discussione di un trattato transatlantico di libero scambio tra Stati Uniti e Europa, che forse sarebbe anche più giusto chiamare tra Stati Uniti e Germania, che può essere qualsiasi cosa perché ne sappiamo pochissimo, la pratica è molto poco democratica, diciamo, di questa trattativa, ma può essere anche lo sdoganamento degli OGM e comunque la si pensi sul piano scientifico perché avviene senza informare l'opinione pubblica. Bene, di questo vogliamo discutere. Qual è la posizione del PD, qual è la posizione del Partito Socialista Europeo? Non lo so. Mi piacerebbe sapere anche qual è la posizione su un New Deal per l'Europa, sul fatto di destinare le risorse europee alla creazione di posti di lavoro in un continente che è una terra ricchissima, abitata da popoli sempre più poveri e sempre più disoccupati. Beh, vorrei sapere, ci sono delle adesioni individuali, di molti, anche dei presenti, a questa ipotesi. Però nella pratica che cosa accade? Che si danno, come sta facendo Draghi, altri soldi alle banche, dicendo che poi le banche le riverseranno nell'economia reale. Ora, credo che tutti possono capire che quando si fa una, come dire, una sanzione dello 0,10%, tutti possono capire che è una presa in giro, che quei soldi finiranno nei bilanci delle banche, come sono finiti i soldi spesi in tutti questi anni per ripianare i bilanci delle banche. Non so neanche quale sia la posizione rispetto alla riforma della BCE, alle riforme che tendono a separare le banche, diciamo, che raccolgono il risparmio dalle banche d'affari. Su tutte queste posizioni bisogna fare una scelta, non si può fare una cosa e anche un'altra, come nella imitazione di Veltroni fatta da Crozza. Non si può essere contro l'austerità, ma anche molto d'accordo con la Merkel. Non si può. Bisogna fare una scelta e chiarirla, e tenersi in questa ambiguità, rinviando, con la politica del rinvio, che non è una cosa, permettetemi, modernissima, chiedere che il fiscal compact sia rinviato di un po' o scontato di un attimo, e il pareggio in bilancio sia rinviato in un anno. A parte il fatto che probabilmente non verrà concesso, e secondo Federico Fubini, che è un collega di cui ho molta stima, oggi lo scrive su Repubblica, non verrà concesso. Ma non significa niente. Il fiscal compact e il pareggio di bilancio nella Costituzione sono due punti di una politica sbagliata, che va da anni avanti così, producendo depressione, producendo disoccupazione, e che continua ad andare avanti così e produrrà gli stessi risultati. Perché è folle pensare che replicando la stessa politica si otterranno risultati diversi in futuro, quando in passato si sono ottenuti questi. E quando si passa dall'Europa, l'Europa è un posto dove si chiarificano le posizioni, dove anche molte ambiguità della politica italiana si disvelano. Per esempio quella di Grillo, abbiamo visto tutti, quando si tratta poi di sedersi da una parte, di scegliere qual è stata la scelta di Grillo. E però bisogna anche che si disvelino alcune ambiguità della sinistra italiana, perché una volta che si sceglie di stare dalla parte della grande coalizione che prosegue la politica, l'austerità si fa una scelta. E non è una scelta dove poi puoi ottenere di piccole contrattazioni. Questi patti non sono negoziabili, ce l'hanno ripetuto molte volte, continuano a ripetercelo anche al di là del gioco poliziotto buono, poliziotto cattivo, come ha scritto qualcuno. E poi c'è la questione delle scelte in Italia. Io appartengo a una lista che si è presentata in Europa, ma insomma seguo le vicende italiane. Ora ci sono delle scelte, la parola riforme che ormai è diventata anche quella molto logora, è molto usata, riforme, riformismo, come diceva giustamente Fassina, bisogna vedere poi che cosa davvero, il cambiamento non è neutro. Allora questa legge, il combinato tra la legge elettorale e questa riforma del Senato è chiaramente disegno a mio parere autoritario. Se l'avesse fatta Berlusconi io sarei in piazza, non capisco perché dovrei approvarla se la fa qualcun altro, non lo dico solo io, lo dice Eugenio Scalfari che magari non è della lista Zipras. Cioè pensare di fare una legge elettorale con queste strane soglie di sbarramento che non ripara nessuno dei vulnus individuati dalla Corte Costituzionale rispetto al Porcellum, che ha sempre le liste bloccate, che ha sempre un premio di maggioranza incongruo e che è per giunta con un Senato di non eletti, beh insomma, non so come altrimenti chiamarlo, se no un disegno autoritario al quale io mi ribello, chiunque lo proponga. E così vale per altre questioni, perché qui si parla di riforme e forse anche un po' troppo su temi istituzionali. Ci sono dei problemi in questo Paese che io come giornalista e negli ultimi vent'anni ho visto peggiorare costantemente chiunque fosse il governo. Forse soltanto il primo governo Prodi ha cercato di spostare la barra su alcune questioni centrali di questo Paese, che sono la corruzione della politica, che sono il potere crescente delle mafie, che sono l'intangibilità dei poteri forti dei sistemi bancari e della finanza, che sono l'evasione fiscale dei grandi patrimoni, che sono una perenne redistribuzione del reddito dal basso verso l'alto. E sono anche, vorrei aggiungere, perché so che sembra un po' fanatico sull'argomento, ma in questo grande clima di ammirazione per la Chiesa vorrei anche ricordare che comunque esistono delle influenze del Vaticano sul fatto che in Italia sia il Paese che ha il più arretrato sul piano dei diritti civili, che comunque dal Vaticano arrivano parole bellissime che io condivido dal sommo pontefice, dopodiché l'otto per mille rimane lì, certi rapporti economici tra Stato e Chiesa rimangono gli stessi, e l'Uyork è sempre lì, con capitali opachi all'interno. Benissimo, perché oltre a parlare di riforme, da tutti i punti di vista vorrei che le cose cambiassero, su tutti questi punti, la corruzione, l'evasione fiscale, in concreto, qual è l'azione che si propone, qual è la riforma che si propone? Perché sul lavoro, questi decreti sul lavoro sono o interessasse in conflitto anche con le attuali normative europee, cioè molti dei contratti che verranno firmati con i nuovi decreti sul lavoro possono finire tra le tante cause del lavoro che arrivano in Europa dall'Italia. e bisognerà anche riflettere su questo, perché io non credo che sia una risposta giusta a un Paese che sta coltivando intere generazioni di disoccupati e di precari. Ci sono in tutto questo molte ambiguità da chiarire, ci sono anche, vorrei chiudere da questo motivo, delle cose positive nel nuovo corso del PD che io riconosco. Una cosa positiva è che in buona parte la rottamazione della Seconda Repubblica è avvenuta, io la considero una cosa positiva. Io credo che Renzi abbia comunque, il fenomeno Renzi, abbia comunque chiuso, che sia stato anzi usato dai cittadini per chiudere un'esperienza della Seconda Repubblica che è stata considerata giustamente fallimentare e ha liquidato un intero quadro politico dall'estrema destra all'estrema sinistra. Nulla sarà più come prima e di questo bisogna riconoscere ci avviamo verso una nuova stagione. Naturalmente bisogna decidere dove ci porterà questa nuova stagione e che cosa c'è dentro nelle scelte di questa nuova stagione. E l'altro aspetto è la speranza. C'era una frase che a me è rimasta di Luigi Pintoro che era un amico, un maestro e diceva in polemica con una certa sinistra apocalittica vendere patate è più nobile che vendere disperazione. E me lo sono ricordato anche l'ultima volta che sono andato in Grecia perché c'è un movimento in Grecia guidato da un professore universitario che si chiama Potato Movement e che vende le patate. Vende le patate senza passare dalla distribuzione a famiglie dove ormai nel cuore della ricca Europa la mortalità infantile e anche la denutrizione dei bambini ha raggiunto livelli spaventosi. E quindi io penso che vendere patate sia meglio che vendere disperazione e penso che un compito della sinistra fondamentale sia evocare speranze e in questo capisco che quello che ha fatto il PD in questi mesi è di evocare grandi speranze. Però dobbiamo anche capire che cosa c'è dietro questo cioè che modello che visione di società c'è perché se la visione di società è semplicemente rinnovare il rinnovamento il cambiamento punto neutro e allora è una speranza che è destinata presto a cadere e a tornare e a rivolgersi in disperazione. Se dietro questa speranza c'è la volontà di cambiare realmente la vita materiale di milioni di italiani di decine centinaia di milioni europei allora possiamo fare un largo tratto di strada assieme e cominciare per quanto mi riguarda riguarda anche la lista Tsipras a raccogliere insieme le firme di questo referendum contro l'applicazione del fiscal compact e del pareggio in BNC in Costituzione. Grazie a tutti voi.